I canali che utilizzo per farmi arrivare la richiesta e per pubblicitari sono Internet e i maggiori magazine di pubblicità sul turismo e Facebook più finalizzato allo scambio di esperienze e di consigli da dare appunto al social network e anche molto importante per me è la DM di Evolution Travel in quanto i vari iscritti alle newsletter permettono di avere molte richieste e quindi di poi convertirli in chiusure di contratti di viaggio.